Nella big match fra Castiglione e Pergolettese vince la squadra più solida, più concreta e con la rosa più ampia e forte. Nell'incontro del Lusetti, i mantovani lasciano l'iniziativa ai cremaschi, attendendoli nella propria metà campo per ripartire velocemente una volta riconquistata la palla. Altro punto di forza è la fisicità dei ragazzi di Del Piano, soprattutto sulle situazioni di palla inattiva. Non a caso, infatti, il gol partita è arrivato da calcio d'angolo. Al Pergo rimane un senso di incompiuto perché ha giocato una buona gara facendo la partita per un'ora circa, ma senza concretezza e sbagliando occasioni decisive sotto porta. Si è fatta anche sentire oltremodo l'assenza di Rossi proprio in questo periodo di match decisivi. È proprio il suo giovane sostituto, Bigotta, autore di una partita generosa, ad avere la prima occasione della gara, al nono, di testa, quando tutto solo ha mancato lo specchio della porta. Al diciassettesimo è Maccabiti a concludere fuori di un metro, al ventinovesimo Tacchinardi lascia partire un bolide dei 30 metri che colpisce la faccia esterna del palo. Al minuto 37 Lorenzi non arriva su un cross di Arpini mentre in chiusura di tempo è Maccabiti a farsi parare da montaperto il possibile vantaggio dei padroni di casa. Anche il secondo tempo inizia con un'occasione per parte. Al sesto tiro di Cristofoli parato dal numero uno gialloblu e dal nono un diagonale di Lorenzi viene bloccato da Boccanera. Al minuto 16 il dinamico nuovo entrato Bignotti si conquista un angolo dove Cristofoli stacca con un potente colpo di testa e segna il gol della vittoria. Il pergo reagisce ma non riesce a sfondare, da registrare solo una punizione di Manzoni parata al trentasettesimo. Ora sono già sette i punti di distacco dalla vetta e la corsa è tutta in salita.